Padre Amort racconta Papa Ratzinger Benedetto XVI liberò dal maligno due posseduti. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi il grande potere che aveva Papa Benedetto XVI di liberare le persone dal male come tutte del resto le figure di grandi santi. Questo potere del Pontefice Papa Benedetto è stato confermato anche non solo da Padre Amort ma anche di recente da un esorcista che nel corso di un esorcismo ha proprio fatto delle domande alla persona posseduta e al demonio che si era impossessato di questa persona per indagare ancora di più sul grande potere che aveva Papa Ratzinger di cacciare proprio i demoni. Ecco cosa ha chiesto l'esorcista al posseduto. Che mi dici del Papa Emerito di Benedetto XVI e qui chi risponde è il demonio. Ah la sua preghiera, oh orrore della sua preghiera, prega per voi, i preti, per la vostra chiesa, per voi. Ah che dolore mi dà in quella casa, prega sempre, è un tormento continuo, prega per voi e si mortifica, prega e crede, prega e spera, è sicuro che per voi l'aiuto giungerà dall'alto. Dopodiché si udirono delle urla disumane. Ecco ma come ha operato e come opera Papa Benedetto la liberazione dei posseduti dal demonio? Racconta Padre Amort di una mattina del maggio dell'anno 2009. Papa Ratzinger era Papa già da quattro anni, ricordiamo che è stato eletto nel 2005, subito dopo la morte di San Giovanni Paolo II. La folla era radunata in piazza San Pietro, il giorno era il mercoledì, un giorno come sappiamo dell'udienza generale. I fedeli erano arrivati da tutto il mondo, dal fondo della piazza a un certo punto entra un gruppetto di quattro persone. Si tratta di due donne e di due giovani uomini. Le donne sono delle racconta Padre Amort, erano persone che lo assistevano durante gli esorcismi. Pregavano proprio per Padre Amort ma anche per i posseduti e li assistevano per quanto era loro possibile nel loro lungo e difficile percorso di liberazione. I due giovani uomini purtroppo erano due posseduti, ma nessuno lo sapeva. Lo sapevano soltanto loro e le due donne che li assistevano. Ecco, quel mercoledì queste due donne decidono di portare i due posseduti all'udienza di Papa Ratzinger Benedetto XVI perché pensano e sperano che i due giovani possano trarne il giovamento. Infatti, molti gesti e parole di Papa Benedetto facevano proprio imbestialire Satana. La sola sua presenza inquietava i demoni e aiutava i posseduti nella loro battaglia contro colui che li possiede. I quattro si avvicinano verso le transenne in prossimità della struttura da dove Benedetto XVI di lì a poco sarebbe stato chiamato a parlare. Si cerca di portare il più possibile i due posseduti il più possibile vicino al Papa. I due, in attesa che arrivi il pontefice, nonostante siano sollecitati da molte domande da parte delle donne che li assistono, non parlano. Sono stranamente molto silenziosi. È come se coloro che li possiedono, che si tratta di due demoni diversi, stiano incominciando a capire chi di lì a poco arriverà in piazza. Ecco che allo scoccare delle dieci esce dalla Basilica Vaticana una jeep bianca. Sopra questa jeep si trova chiaramente Papa Benedetto XVI. Le due donne si girano verso i due posseduti ed iniziano a sorreggerli con le braccia, perché i due a un certo punto incominciano ad avere dei comportamenti strani. Uno dei due trema e batte i denti. Le due donne capiscono subito che qualcuno sta incominciando ad agire nel corpo di Giovanni e di Marco. Qualcuno che col passare dei minuti si mostra sempre più agitato. Una delle due donne dice Mantenete il controllo di voi stessi. Mantieni il controllo. Non farti sopraffare. Reagisci. Mantieni il controllo. E l'altra donna dice le stesse parole all'altro posseduto. Ecco che però i due non sembrano assolutamente ascoltare le parole della donna. Tanto che praticamente si gira all'improvviso verso le due povere donne e una voce lenta e cavernosa che sembra provenire da non si sa quale mondo inizia a dire Io non sono Giovanni. E la donna a un certo punto non dice più nulla. Sa che con il diavolo può parlare solo un esorcista. Se lei provasse a parlargli sarebbe molto rischioso. Così rimane in silenzio e si limita a sostenere il corpo di Giovanni ora completamente in mano al demonio. La jeep gira per tutta la piazza. Sa i due posseduti si piegano per terra e iniziano a sbattere la testa violentamente per terra. Le guardie li osservano ma non intervengono. Forse sono abituate a scene del genere. Non sappiamo. Forse altre volte hanno assistito alle reazioni dei posseduti innanzi al papa. Non lo sappiamo. Fatto sta che la jeep compie un lungo percorso. A un certo punto il papa scende dall'auto e saluta le persone poste nelle prime file. I due posseduti insieme a un certo punto iniziano ad ululare. Sdraiati per terra ululano. Ululano fortissimo. Una delle due donne cercando di attirare l'attenzione di papa Benedetto gli urla. Santità! Santità! Siamo qui! E Benedetto XVI si gira ma non si avvicina. Vede però chiaramente le due donne e vede i due giovani uomini per terra che urlano, sbavano, tremano, danno in escandescenze. Vede lo sguardo d'odio dei due uomini. Uno sguardo diretto proprio contro di lui. Ma il papa non si scompone. Guarda da lontano. Alza un braccio e benedice i quattro. Per i due posseduti è una scossa furente, una frustata assestata in tutto il corpo, tanto che cadono tre metri indietro sbattuti per terra. Adesso non urlano più ma piangono, 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 gemono per tutta l'udienza. Quando poi il papa se ne va rientrano in loro stessi. Tornati in loro stessi non ricordano nulla. Benedetto XVI è temutissimo da Satana. le sue messe, le sue benedizioni, le sue parole sono come dei potenti esorcismi. Non sappiamo se durante il suo pontificato egli abbia compiuto dei veri e propri esorcismi ma sappiamo che il suo pontificato è stato un grande esorcismo contro Satana, un esorcismo efficace e potente. Ecco che questo è stato dovuto al fatto al modo in cui Benedetto XVI ha vissuto la liturgia all'insegna di un rigore, all'insegna di una postura che di fronte alla quale Satana tremava e la liturgia celebrata da un qualunque pontefice anche da Papa Francesco è molto potente. Satana è ferito ogni volta che un Papa celebra l'Eucaristia. Satana ha tenuto molto l'elezione di Ratzinger al soglio di Pietro perché vedeva in lui la continuazione della grande battaglia che contro di lui aveva fatto il suo predecessore San Giovanni Paolo II e anche il suo successore Papa Ratzinger e Papa Francesco. Quindi vi invito ad ascoltare in qualunque canale la benedizione di Papa Benedetto XVI e di qualunque pontefice che è molto efficace contro le forze del male. Io vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato sempre con grande attenzione e preghiamo insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.